120 Hz o meno, diciamo che questo problema non si pone con l'iPhone 16 Pro Max perché qui c'è ovviamente il promotion ma comunque non ne parliamo, non sarà un argomento di questo video ma dei prossimi. Abbiamo visto poi sparire le cuffie, poi il caricabatterie, dalla confezione e quest'anno manca un'altra cosa, gli adesivi Apple che non sono presenti all'interno della scatola dei nuovi iPhone. Con l'iPhone 16 Pro Max c'è sicuramente da parlare di cose un po' più semplici rispetto a queste cose importanti degli adesivi e parliamo dei nuovi colori perché quest'anno c'è questa bella colorazione oro. Devo dire che di persona fa un bel effetto, è molto elegante, non viene chiamata oro però comunque vedete anche voi è quella. Se avete la possibilità passate i negozi e fatevi un po' un'idea perché è davvero molto molto carina. Prima di continuare però vi chiedo anche un piccolo favore perché per voi è una roba velocissima ma per me fa davvero tantissimo e vi chiedo quindi di lasciare un mi piace al video e soprattutto di iscrivervi al canale perché aiuta tantissimo il mio lavoro. Quindi grazie. Devo dire che a primo impatto non ho sentito una differenza molto importante rispetto alle dimensioni del vecchio Pro Max e del vecchio 15 Pro Max perché comunque quest'anno le dimensioni dei modelli Pro sono cambiate, sono diventati un po' più grandi perché l'iPhone 16 Pro, quello più piccolino, passa dai 6.1 ai 6.3 pollici e con il Pro Max da 6.7 ai 6.9. Questo è il modello Pro Max che da grande è diventato ancora più grande. Non ho però sentito una differenza così marcata rispetto al 15 Pro Max. Questo è dovuto al fatto che i bordi qua sono un po' più sottili e lo rendono un po' più moderno, un po' più avanzato, diciamo così. Io non sono uno che solitamente fa cadere il proprio iPhone però non lo uso mai senza protezione, mi fa stare un po' più tranquillo e poi una custodia del genere ti dà anche un po' più di grip senza considerare che poi quest'anno le custodi di Moft hanno una chicca davvero molto particolare che vediamo dopo. Questa prima impatto è una custodia trasparente, molto semplice ma Moft ha fatto davvero un bel lavoro perché è sottilissima e mantiene intatta l'estetica del 16 Pro Max. Si vedono bene quindi i colori, le forme ed ha anche un po' più di protezione allo smartphone. La parte laterale poi viene lasciata libera per usare comodamente anche il tastino e il controllo della fotocamera e poi è perfettamente compatibile con gli accessori magnetici MagSafe, quindi ovviamente anche con il portafoglio di Moft. Qui ci stanno un po' di carte ed è il mio portafoglio di tutti i giorni, non esco mai senza perché è davvero comodissimo. E poi devo dire che i magneti sono anche molto molto forti tra i due, davvero non si muove niente qua dietro ed è una delle custodie con i magneti più forti che abbia mai provato. Infine c'è anche un aspetto un po' più figo perché spengo le luci per farvelo vedere ed ecco qui che abbiamo i dettagli sugli angoli che si illuminano al buio. Davvero fighissimo e ci permette anche di trovare il nostro iPhone al buio quando non c'è luce. Vi lascio qua sotto tutti i link per vedere la custodia e il portafoglio di Moft e fidatevi una volta provati non ne potrete mai fare più a meno perché sono comodissimi. Ovviamente poi appena tirato fuori dalla confezione ho subito fatto dei benchmark per vedere le prestazioni elevatissime di questo 16 Pro Max. Non è vero, non è vero assolutamente. Il 15 Pro Max dello scorso anno era potentissimo. Il 16 Pro sicuramente lo è ancora di più però nell'uso di tutti i giorni sono molto simili. Non è però uguale tutta l'esperienza fotografica di questo 16 Pro Max perché ovviamente c'è una nuova fotocamera ultrawide che non ho ancora testato benissimo ma sicuramente lo farò nei prossimi giorni. Ma la cosa fondamentale è il nuovo controllo della fotocamera, un tasto laterale che serve per controllare tutte le funzioni più importanti della fotocamera. Si può quindi controllare lo zoom attraverso le tre fotocamere, regolare gli stili di scatto e poi soprattutto con una pressione più decisa si effettua uno scatto. E tenendo premuto questo pulsante si avvia anche una registrazione video. Comunque questo camera control è un po' strano, avevo sentito un po' di persone che parlavano di un utilizzo un po' particolare ma pensavo di riuscire ad abituarmi subito all'utilizzo appunto. Non so se sia una roba mia personale però ci dovete un po' prendere la mano. Io mi aspettavo che subito fuori dalla scatola sari stato in grado di utilizzarlo al massimo in tutte le funzioni ma così non è stato, mi ci devo un po' abituare ed esercitare. Arriverà sicuramente i prossimi giorni un video dedicato a questo tasto perché è una delle maggiori novità dell'iPhone 16. iPhone 16 che in realtà all'inizio mi aveva fatto un po' preoccupare dopo la presentazione perché io non sono un grandissimo amante dei telefoni grandi ma quest'anno il Pro Max cresce ulteriormente di dimensioni. Prendendolo in mano però mi sono dovuto subito ricredere. Io vengo da un anno di utilizzo intenso di iPhone 15 Pro Max e qui siamo più o meno alla pari. In realtà si affiancati si vede che c'è qualche millimetro in più sul 16 ma davvero poca roba. In ogni caso in descrizione vi lascio tutti i link per gli iPhone e guardateli spesso perché sono davvero difficili da trovare e ci dovete stare un po' dietro. Ditemi voi se siete stati in grado di trovare quello che volevate, il modello che volevate e soprattutto scrivetemi qual è il modello che avete scelto. Noi comunque ci vediamo nei prossimi video perché uscirà molta roba su questi nuovi iPhone quindi iscrivetevi per non perdere nulla ovviamente. Noi comunque ci vediamo nei prossimi video.